A 45 anni dalla sua scomparsa, il Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale, la città di Torino e il Polo del Novecento hanno ricordato la figura di Franco Antonicelli. Lo hanno fatto con l'intitolazione della piazzetta davanti al Polo all'incrocio tra Via del Carmine e Corso Valdocco e con due giorni di musiche, letture e testimonianze. Beh, Antonicelli fu un grande intellettuale innanzitutto, un grande uomo di cultura, un politico, fece il discorso della liberazione a Torino in una piazza stracolma che era la piazza Vittorio Emanuele e fondò quattro istituti e fondazioni che sono qui in questo palazzo. Allora non c'è posto migliore per dedicargli una piazzetta e rinvergire il ricordo di un uomo che ha dato tanto alla cultura e alla politica di Torino. Professore, giornalista, editore, artista, Antonicelli è stato molte cose ma soprattutto un guardiano della memoria antifascista. Papà credo che abbia contato molto in questa città, ha dato molto ed è anche molto amato. Se fino a un po' di tempo fa poteva essere un riconoscimento a persone che hanno lottato per liberare l'Italia dal nazifascismo, adesso dei simboli, dei personaggi simboli come è stato papà, può essere uno strumento in più per lottare. Politico stimato, la sua lotta contro ogni forma di discriminazione per la tutela dei diritti lo ha portato dalle carceri di regime, dove finì nel 1929 per aver firmato una lettera di solidarietà a Benedetto Croce, fino al Senato della Repubblica nel 1968. Il Piemonte era la patria di Antonicelli e oltre ad essere la patria di Antonicelli è stato uno dei fulcri fondamentali della lotta di resistenza. Piemonte e Torino ancora una volta nella storia si sono dimostrate delle forze essenziali in questo campo politico e non solo. La partecipazione del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale del Piemonte non è solo una rievocazione celebrativa, ma un impegno culturale volto a tramandare la memoria di coloro che hanno segnato profondamente la coscienza del Paese.